26. Iuna Ogni mattina Iuna, un pastore tedesco, accompagnava al lavoro il padrone che faceva il barista. Quando il padrone fu ricoverato in ospedale per una crisi di asma, Iuna, non si sa come, entrò in ospedale e trovò la stanza dove era ricoverato il padrone. Nei giorni seguenti salutava festosamente, ma compostamente, e si accoccolava ai piedi del letto. Quando veniva scoperta dagli infermieri, questi telefonavano alla moglie del barista perché venisse a riprendersi Iuna. Poi, inspiegabilmente, anche Iuna si ammalò d'asma. Un giorno il padrone non superò una crisi e spirò. Qualche ora dopo anche Iuna morì per una crisi di asma. Commento L'amore fonde un essere nell'altro e l'uno diventa l'altro anche le sue malattie. L'amore fonde un'altro L'amore fonde un'altro Grazie a tutti.